Giornata particolare, quella di domenica scorsa a Bibbiano, con la prova unica di campionato italiano Cuscinetti, organizzata dall'Associazione Venerabile Compagnia di Santa Maria Bibbiano con il Centro Sportivo Italiano e Granducato Speed Down. Si tratta di una gara a cronometro per varie categorie, tra cui spiccava il campionato italiano Cuscinetti, il campionato regionale Toscano e il campionato casentinese. Un percorso di gara di 1,3 km con una pendenza media del 10%. Andiamo a vedere nelle varie categorie chi è andata la vittoria. Nella categoria kart tradizionale, successo per Leandro Cerofolini del Casentino Racing Karts. Nella categoria kart C8, la vittoria è andata Niccolo De Rosa, sempre del Casentino Racing Karts. Nella minicart Bambini C9, successo per Stefano Lapini, sempre del Casentino Racing Karts. Categoria Skeleton C10, successo per Roberto Crescini del Team Nelly. Categoria Folk, la vittoria è andata Mirko Manattini del Team Carretti Villa Basilica. Nella categoria Cuscinetti singoli N8, la vittoria è andata Michele Mattioli del gruppo Perugia Karts. Cuscinetti doppi, successo per la coppia Felice Chiaravalle e Paolo Rossi della Speed Down Emilia Romagna. Cuscinetti tradizionali N8T, vittoria per il Casentino Racing Karts con Pio Altadonna Matti. Categoria Gravity Bike, successo ancora per la Casentino Racing Karts con Marco Mencattini. Sempre la formazione del Casentino Trionfa, anche nella Drift Rike Bambini con Pietro Arias e nella categoria Kaises Savon con Giancarlo Fugazza. Categoria Bob Car C6, vittoria per Andrea Fiaschi e Giorgio Inserra su Team Carretti Villa Basilica. Infine nella Drift Rike DT, vittoria per il Team Leggero, grazie a Massimo Balloni.